Pisano cerca spazio sulla corsia, prova il cross, Di Bala sponda, il tiro di Vasquez subito, si fa vedere il Palermo Barretto in avanti per Di Bala, la mette giù, Di Bala è tutto solo, Di Bala, Di Bala! Palermo 1, Sampdoria 0, al settimo minuto, la firma di Paolo Di Bala Il cacciatore vuole spazio per un cross e lo trova Sorrentino con Obiang che stava per anticiparlo Sanzone al limite, Sanzone e le tocco per Obiang, carica il sinistro, Obiang, deviato ma c'è Sorrentino Barretto arriva in zona tiro, ci prova, Barretto! La palla che sfiora il palo, Palermo vicino a Radocchio Versi allontana, Reggini con la mano ma era completamente involontario, occhio perché se arriva il secondo cartellino è espulso Secondo giallo per Reggini, la Sampdoria in dieci dal quarantesimo Lancio morbido per Di Bala, il controllo di Di Bala riesce in un dribbling, Di Bala! L'intervento decisivo di De Silvestri Occhio al tiro di Franco Vasquez che ha trovato lì, un pallone golosissimo ma non ha trovato la porta Il cross verso De Silvestri riesce a colpire di testa Castaldello! Il pareggio della Samp al novantunesimo Daniele Castaldello, 1-1 Finisce